Temptation Island chiude? Maria De Filippi verso una decisione clamorosa Temptation Island chiude? Il programma prodotto da Maria De Filippi non dovrebbe tornare nel 2022 Quella lanciata da TV Blog è un'indiscrezione clamorosa. Temptation Island è pronto a chiudere i battenti Il programma condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla fascino di Maria De Filippi non dovrebbe avere una nuova edizione nell'estate del 2022 Stando alle indiscrezioni lanciate da TV Blog, infatti, non ci sarebbe l'accordo tra la società di Maria De Filippi e Banigiai Che detiene i diritti internazionali del format Temptation Island. Quindi cosa andrà in onda il prossimo anno? Maria De Filippi. Niente Temptation Island. Un nuovo format prenderà il suo posto? Secondo le indiscrezioni di TV Blog Maria De Filippi avrebbe preso la decisione di Non riproporre Temptation Island nel 2022 perché non ci sarebbe l'accordo tra la fascino e Banigiai Il mistero sul nuovo programma che andrebbe a sostituire Temptation Island Potrebbe essere facilmente risolvibile sapendo che Maria De Filippi sta lavorando da tempo a Un nuovo programma annunciato ufficialmente da Mediaset e che la vedrebbe solo nei vesti di produttrice Sarà questo. Quindi. Il programma che andrà a sostituire Temptation Island Dovrebbe avere come protagonisti delle coppie e potrebbe riprendere quell'ultima fermata che era destinato per Stefano De Martino Filippo Bisciglia dovrà dire addio a Temptation Island? Le ultime indiscrezioni Forse Filippo Bisciglia nel 2022 dovrà dire addio a Temptation Island Ma potrebbe essere lui il conduttore del programma che sarebbe pronto a prendere il suo posto Ci sono ottime possibilità che il nuovo format prodotto da Maria De Filippi sia praticamente identico a Temptation Island Un po' come successe con Italia's Got Talent quando passò a Sky In quell'occasione Maria De Filippi lo sostituì con Tu si che vales Qualunque decisione prenderà. Maria De Filippi avrà successo